Eccoci e bentornati sul mio canale, di nuovo con Super Frog HD Dobbiamo andare a giocare il quinto mondo, nelle caverne di ghiaccio Chissà cosa ci aspetta, se qualche orso polare, qualche, non lo so, qualche ieti, qualche pupazzo di neve Non lo so, sinceramente sono molto curioso di vedere che cosa c'è in questo mondo Oh, guardate un po' chi c'è, il pupazzo di neve, guardate che forte Carissimo pupazzo, ok, non so se questi qua, non mi ricordo mai se li stalattiti o li stalagmiti Quali sono, quelli che crescono sopra e quelli che crescono sotto, sinceramente Mamma mia, chi è questi qua che mi guardano? I pipistrelli saranno, sinceramente Ok, mamma mia, è veramente forte, sta bene, che cavolo sto tubo refrigerante, ma beccato pieno Non so se questi cosi che stanno in alto, questi speroni, ci ammazzano oppure no, sinceramente Comunque veramente mi sento proprio osservato quando passiamo nei punti bui, guardate questo Out Questo è stato velocissimo ragazzi, questo è stato veramente veloce A mappa, proprio toccato e fuga Proprio toccato e fuga ragazzi, ok, abbiamo anche vinto Banana No, cacchio, ho sbagliato Dovevo premere più veloce E proviamo, banana, banana, niente da voce alla mela, quindi niente da fare Ok Andiamo a fare subito il secondo quadro, ecco Ci doveva essere qualcosa che non andasse Ok Dobbiamo stare attenti quindi a queste discese di ghiaccio Perché se no veniamo fregati Allora Qua, ok Qua, ok Uh, qua, qua è strettissimo Mamma mia Brividi veri Brividi, ok Andiamo Andiamo Bene così Allora No, ah, eccoli, vedete, pure i pinguini Non c'è, ho pensato che ci potessero essere anche i pinguini Quindi, pupazzi di neve e pinguini in questa ambientazione del quinto mondo Comunque veramente carine, eh Nel senso, un plauso agli sviluppatori hanno fatto veramente un ottimo gioco Perché praticamente i livelli hanno un level design veramente bello Poi a me piacciono proprio i giochi, i platform con questi colori straccesi Siamo proprio belli, nel senso, sono colori proprio vivissimi Ah, qua c'è la mitica pallina Che sicuramente ci serve per abbattere qualche bel pinguino E qualche pupazzo di neve Allora Continuiamo nella nostra avventura Che procede abbastanza spedita, vedo, eh Stiamo andando abbastanza bene Non so qui se c'è qualcosa No, per fortuna Ho sempre paura che quando faccio un salto Mi ritrovo gli speroni Cacchio Che è caduto Oh Mamma mia Ma avete visto? Che è sudata quel pezzo Proprio, si può dire proprio una botta di sedere Lo possiamo dire, una botta di sedere Ok Abbiamo preso anche un altro livello Però il problema è che dobbiamo tornare indietro Non so se queste cose cadono O non so che succede Quindi dobbiamo andare sulla destra Questa volta è sulla destra Ok Mamma mia Abbiamo quattro livelli Fantastico Ok Aspettate Non so mai se andare A sinistra o a destra Mamma mia che infidi Questi speroni che aspettano che arriviamo Per cadere dal soffitto Allora Mamma mia Ok Benissimo Così Andiamo avanti Allora Qua ci sono due ossi Ne riusciamo Benissimo A saltare Attenzione Bene Bene Allora La freccia dice che stiamo andando bene Ok Abbiamo completato anche questo Siamo stati veramente bravi Questa volta Veramente veloci Con Nessunissimo problema Veramente Andiamo a fare la La roulette Allora Qua niente Qua non possiamo far nulla Banana Banana Ciliegia Ciliegia Ma pure se metto mela Non cambiava niente Mela Qua posso mettere la mela E qua Vinciamo Perfetto Ok Niente È stato un video abbastanza breve Perché come avete visto Il primo e il secondo livello L'abbiamo vinti veramente molto bene Allora niente Come vi dicevo E quindi come eravamo rimasti Due livelli per ogni video Quindi ci vediamo nel prossimo video Così giochiamo il terzo e il quarto Così abbiamo anche il nuovo duello Con la strega Qui Sul ghiaccio Qui con Superfrog HD